Suu suu amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo con The Willards Live. Buongiorno, buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, non so che ora guarderete questo video, comunque ben ritrovati a tutti quanti, maschi, femmine, chiunque sia davanti al video. Siamo di nuovo con The Willards Live, come potete notare, primissima cosa, Jeremiah si è tagliato i capelli, ha deciso di dare un taglio e cambiare un pochino il look. Trovo che stia molto bene con i capelli così, devo dire la verità, anche se adesso sta facendo la faccia un pochino così, comunque rimetterei in pausa. Guarda, che cos'hai? Hai imbarazzato, si vuole lavare i denti, oh mio Dio perché ha l'alito cattivo, va bene, allora guarda, vai a lavarti i denti, così stai, ti rilassi subito, vai a lavarti i denti. Come potete notare con noi c'è Lorraine, mi sembra che l'avessi fatto direttamente, non ricordo se gliel'ho fatto aggiungere, l'ho aggiunta alla famiglia in registrazione o off camera, comunque lui l'ha chiesto di convivere. Tra l'altro una cosa, ragazzi, importantissima, no, non gliel'ho bloccato, scrive consigli di giardinaggio, Jeremiah, ma te il giardinaggio da quando? Comunque a lui era venuto il desiderio di fidanzarsi ufficialmente con Lorraine, stringi Lorraine, questo lo faremo, cerca informazioni su vampiri, no, desidera pure qualcosa di nuovo, neanche questo, no, basta sti giocattoli, scartiamola. Volevo vedere se tornava fuori, perché gli era venuta fuori quella, questo capriccio e mi spiace che sia sparita, la lettiera, non hai un gatto, hai due cani, perché sì, adesso insieme a noi c'è, oltre a Delta, c'è anche Sansa, eccola qua, che sta mangiando, sì, tu vai pure a lavarti i denti, te che staresti facendo? Fai stretching in corridoio, va bene, comunque Lorraine si è aggiunta alla famiglia, ho dato anche a lei un po' di makeover, l'ho un pochino sistemata, lei ragazzi, come lavoro, fa la veterinaria, si, leviamoci la cacca del cane da qui, e ha una clinica veterinaria, quando clicco, Little Paws Vet Clinic, che è, se non erro, a, no, senza se non erro, è a New Crest, Tra l'altro abbiamo dei punti extra, quindi vediamo un attimo, sblocca la qualità delle forniture veterinarie, discorso motivante, al momento non abbiamo altri veterinari, però prima di aggiungere veterinari, magari, o di A350, non vorrei assumere al momento nessuno, devo dire la verità, Prendiamo pazienti pazienti, che mi sembra più essenziale in questo momento, e, no, 350, a questo, insomma, a questa clinica veterinaria, e andrei anche con lei dopo, magari, a vedere un po', sta andando anche molto bene, l'ultima volta che siamo andati, ho guadagnato parecchio, c'è un po' di costo pubblicitario, ma, vabbè, niente di che, ci sono 11.000,99 euro nel fondo, che, anzi, io un po', me lo porterei di qua, mi porterei di qua, 8.000, ok, così abbiamo un po' più soldi nell'unità familiare, 3.900, bastano, magari, te ripuliscimi un attimo qua, sono le 5 e mezza del pomeriggio, lei ha finito di lavorare, lui, oh, signore, Dio, che schifo, questo coso è lezzo, pulisci qua, per favore, perché lo, comunque, aiuta a casa, bene, sei anche rotto, tu, in tutto ciò, mi fai il bucato, e tu, inoltre, che stai a pulire, a questo punto, dovresti riparare, però, ormai, finisci, la convivenza, comunque, ragazzi, sta andando, direi, bene, qui, ho detto, ah, questo lavandino si rompe, di continuo, era meglio, questa casa, veramente, cade a pezzi, cioè, me la vedo, lei, che è un pochino, l'appartamento è poco, comunque, fai, visto, ci sono dei nuovi vicini, bisognerebbe fare bravi, quello che fa tutto, ce la fa, dirlo, ragazzi, scusatemi, compro una vocale, anche una consonante, dovremmo fare bravi vicini e portarli qualcosa per presentarli, ok, sì, è una buona idea, solo che io sono un attimino impegnato qua, capito, dai, lo faccio io, e qua c'è uno dei nuovi vicini, che sta cercando di rimettere il pattume, bravo, c'è riuscito, lui è Arnold Kelsey, che direi, potresti venire qui a fare una presentazione amichevole, giusto per conoscerlo, i nostri vicini, ah, viene in casa nostra, direttamente, ehi, salve, benvenuto a casa nostra, volevo passare a salutarla, comunque, disputa delle prospettive di vita, cioè, ma che polemica lei, che ce l'ha, fa una presentazione garbata, quando hai riparato, dopo tre ore e mezzo ce l'ha fatta, e qui c'è sua figlia, adolescente, che si chiama, sono Sim, che ragazzo ho fatto io, Mabel Kelsey, vieni a fare una presentazione garbata anche con lei, praticamente, lui, gli sta raccontando, si sono trasferiti qui da poco, lui è la figlia, e l'altra figlia, invece, è andata a vivere nell'appartamento accanto, quindi, lei, ora, magari, si potrebbe mettere, ora, tu puoi anche andartene, devo dire la verità, amichevole, non c'è rivederci, però potresti anche andare, chiedi di andare via, grazie, vattene, e di lei, vabbè, la mente ti reprezzi dei libri di testo, lo si mette un pochino a discutere gli autori preferiti, insomma, si mette a parlare un po' con questa ragazzina, che è carina, tra l'altro, Mabel, comunque, ora, devo proprio andare a ringraziare la compagnia, allora, lei, che è fissata un quest'osa dei buoni vicini, magari, mi inforna un dolce, potrebbe fare dei dolci al cioccolato premiscelato, giusto per, poi, tu, fa una ramanzina sugli abbaia il cane, perché abbaia, ok, quindi, basta, salutiamo Mabel, mandala a casa a fare compito quel che deve fare, siamo già diventati buoni amici, con le sue maniere garbate, può magari riempi e chiamiamo a turno tutte e due, e a lei diciamo da andare via, perché, se no, sta qui tutto il tempo, grazie, puoi andare a casa, cara Mabel, vai, vai, quest'altra qua, cucina, molto bene, ho anche aggiunto diversi localini nella zona, quindi, magari, poi, ci andiamo, era carino, se avessi preso un tempo il momento in cui si leccava il dito, Ed si sta chiedendo se mi piacerebbe che ci trovassimo da qualche parte, eh, va un resort e un spa, no, papà, no, non veniamo ora alla spa, Appena ha finito lei di mangiare, eh, chiamiamo anche Sansa, riprendi dolci al cioccolato premiscelato, per favore, lui, ragazzi, in tutto ciò, comunque, con la scuola, è andata anche bene, nel senso, ha tenuto la presentazione, ha già presentato la tesina, e tra poco avrà gli esami finali, tecnicamente, giorni restanti della sessione 2, e quindi, ormai ci siamo, e quindi lui è anche un pochino in ansia, potrebbe, in effetti, venire a studiare un po', per te, se non mi sbaglia, avevo il libro di testo, no, queste ricerche di battito, ah, come sta andando qua, devo ottenere la laurea e conseguire il livello 7 di ricerche di battito, quindi, effettivamente, magari, guarda, vieni, visto a te ti piace pure, leggi ricerche di battito, leggiti il libro, vediamo se sale la, l'abilità, benissimo, lei ha fatto questi dolci, tu riempi e chiama Sansa, e poi, cavolo, io ora non ricordavo, cioè, non ripensavo al fatto di, me lo da Delta, non ripensavo al fatto che dovremmo andare dalla vicina, e l'ho fatto iniziare a studiare adesso, il che è un pochino, devo dire la verità, mi scoccia, tanto tu lavati pure le mani, vediamo come stai, di fame non avete, vai un attimo in bagno, mentre lui magari legge un altro po', anche perché sono le 20.46, quindi sarebbe il caso di andare, e vabbè, allora, smetti un attimo di leggere, perché appena lei ha finito, ce ne andiamo qua a conoscere, visita l'appartamento con Lorraine Vega, e dopo un caricamento idiota, lui è arrivato a casa della nuova vicina, scusatemi il cellulare, tale, oddio, cosa hai? È tesa, sarà per l'acne? Nadia, Nadia Kelsey, che è la figlia dell'uomo che abbiamo conosciuto prima, lui dovrebbe aver fatto una presentazione garbata, anche se, insomma, lei è un po' tesa, te. Prisano, non l'hai ancora fatta, fa una presentazione garbata. Sì, salve, ti sei trasferita qui da poco, abbiamo conosciuto oggi tuo padre e tua sorella, e noi volevamo darti il benvenuto con dei dolcetti che ho preparato, io mi auguro che ti piacciano. Oh sì, adoro il cioccolato, ti ringrazio. Cioè topi, bene. Anche se questo appartamento è un pochino terribile. Sì, comunque, piacere, io mi chiamo Geremia. Ciao, piacere, io sono Nadia. Magari prendiamo una porzione tutti insieme, già che... Ma lei non è nel nostro gruppo, quindi... Aggiungi al gruppo molla, perché se no lei non la prende. Prendi una porzione insieme, tu non la starai a riprendere perché già la prendi, già ce l'hai. Aiuto. Se mi prendi questa, mangia il cioccolato, anche se non avresti tutta questa grande fame, ma l'hai fatta in maleducazione. E parlate un pochino, insomma, chiacchierate, dà un segno di gratitudine a Nadia, grazie per averci ospitato, sei stata molto gentile, ma figurati, anzi, grazie a voi per avermi portato questi dolci, sono molto, molto buoni. Allora, potremmo chiedere qualcosa di lei, giusto, visto che siamo qui chiedere della carriera, almeno... E tu che lavoro fai? Salve, Dio? Poi potremmo chiedere... No, ora, se a voi le figlie si è affatto uh uh, non mi sembra una domanda adeguata. quindi volevo più che altro esprimere amministrazioni ai figli, chiediamoglielo. Poi, facciamo sempre amichevole, chiacchiera dei valori della proprietà, ma sì, dai. Eh, questa palazzina è un po' antica, però io adoro questa... questo clima. Lei qui mangia, perché non lo so, è un po'... Unisci, ti dai la conversazione, Lorraine? Chiedete la giornata... E raccomandale una skin care routine, così almeno si inizia a mettere la maschera. Sì, guarda, quest'acne ti capisco, anch'io ne subisco molta, quindi se vuoi ti posso consigliare un ottimo prodotto per la cura della pelle. Ma cosa fai? Vai a dormire a casa di lei? Ma sei impazzito? Cioè, e poi cambiati ora. Ma cioè, no, io non ci posso credere. Ma che cavolo di maledetto? Vabbè che hai benvenuto perenne. Però ora non eccedere, non esagerare, rivestiti per favore e torna di qua a fare conversazione. Tanto ora ce ne andiamo a casa, anche perché lui è in ansia. Siediti, parla. Ecco lei, infatti, guarda. Discuti gli enigmi logici. Oh, comunque, non trovi che faccio un freddo. Ah sì, è vero. Anche se a me non mi dispiace, a me piace molto la montagna. La trovo rilassante. E lei ora magari spettegola un po' da brava donna. Anche se io in realtà sono donna e non sono per niente pettigola. Cioè, lei l'ha già fatto provare la maschera. Comunque, vabbè, direi che le cose stanno andando anche abbastanza bene. Imparala a conoscere. Pure tu vorrei che imparassi a conoscerla. E magari potrebbe essere un nuovo elemento della nostra cerchia di amici. Perché no? Ci abbiamo aggiunto anche Lorraine. Anche se Lorraine in realtà non si trova tanto... Cioè, sì, si trova bene, non si trova bene. È un po'... Bah. Però dovrei aggiungere un altro posto e non ce l'ho. E non intendo togliere nessuno di loro perché ormai mi sono affezionata a tutti. Quindi ti aggiungerò. Vabbè, sapete che faccio? Levo Lorraine dal gruppo. Tanto Lorraine comunque ogni volta che vogliamo viene con noi. Non è un problema la comando per cui chi se ne frega. Mentre Nadia no. Per cui aggiungiamo Nadia e togliamo lei. Discutere i cambi del quartiere. Poi magari le chiede dell'autore preferito. E poi niente. Ma ce l'ha detto che lavoro fa? A parte queste cose qui. Amante alla famiglia. Non ha figli. Nadia è tecnica del laboratorio presso l'operatorio sì, in futuro. No, non ce l'ho vedo per niente ma è scienziata però vabbè è una scienziata. Bene, guarda ti ringrazio per l'ospitalità è arrivato il momento però per noi da andare vabbè e quindi diciamo arrivederci che se non sbaglio c'era stavolta. Cos'è? Convinci? No! Fammi i compiti fai il bagno con Shira no, bellissimo però no non approfittiamoci di lei. salutiamola e siamo tornati nel nostro appartamento loro si sono messi sul divano a parlare un po' di quello che pensano della vicina magari visto che siete qui potreste amoreggiare un attimo poi sarebbe il caso di portare i cani a fare una passeggiata però io ve lo dico ah intanto lui ha appeso anche le foto che ha fatto insieme a Lorraine questo era Capodanno poi che carini poi abbiamo oddio queste qua che mi piace tanto e c'era un'altra foto da qualche parte ma ragazzi non ricordo dov'era vabbè comunque c'era un'altra foto da qualche parte c'è mi sembra ci fosse un'altra foto ora onestamente inizia a non esserne più neanche tanto sicura comunque quando è fatto qui gratti il posto preferito a Delta magari le le dai un dolcetto e poi l'abbracci per finire la porta andate a fare jogging e anche lei andrà a fare jogging con Sansa dice vabbè dai è un po' tardi ma andiamo a carezza l'odala dai un dolcetto e vai a fare jogging basta guardare la tv lei è un po' pigra però vabbè è un po' spinta da lui è lui che insiste dai Lorraine devi mantenerti in forma fa bene al di là del fisico e dell'aspetto ma proprio a livello di salute di benessere ok qui c'è un incrocio di cani e osim incredibile Lorraine ovviamente ama gli animali tantissimo e lui infatti secondo me l'ha convinta dicendole guarda Lorraine pensa al fatto che comunque Sansa adora correre quindi le fai un favore se la porti a correre e lei vabbè dai mi hai convinto allora andiamo a fare jogging anche se sudare non lo trovo affatto piacevole e dai andate che bello stanno andando praticamente insieme oh cioè praticamente poi purtroppo si bloccano a caso però più o meno guarda sono anche più veloce di te come no come no ok io direi di concludere in bellezza facendole bere il contraccettivo vai prenditi il contraccettivo cara ce l'adoro questa mossa ve lo giuro ok tutta soddisfatta stai puzzando bene se il signorino si muove a tornare potreste farlo nella doccia a parte qui non si può fare nella doccia perché è di quella aperta e quindi non me la considera quindi venite a fare fichi fichi qua diciamo così fai fichi fichi con Lorraine e poi vabbè lui andrà Sansa deve andare a fare più fichi bene quindi chiedi di andare a fare i suoi bisogni dopo che avrai fatto fichi fichi intanto fate questo fichi fichi con la maschera di bellezza per lui ma va bene lo stesso sono le 3 del mattino le 2 delle 5 va al lavoro vabbè pace ok ragazzi è arrivata la mattina lui è tornato dal lavoro lei sta facendo il boccato perché effettivamente c'è un po' di bisogno qua ecco lui si è vuoto un attimino di crescere vai a farti la doccia questo pulito sì quindi riponimi il boccato poi per cortesia te che problema hai fatti sta benedetta doccia fai la doccia tu in tutto ciò invece vieni a riempire e chiamare Sansa del t'ha già mangiato e poi magari servi la colazione e mi fai un uova strapazzata e con pancetta e vediamo di mangiare questo qua magari te lo pulisco io va su piccolina mangia te ripigliati il libro che potresti leggerti nel frattempo ah rileggi analizza va non so se aumenta ancora il livello devo vedere dai questi momenti di vita familiare mi piacciono un sacco e infatti mi piacciono talmente tanto che gli faccia anche una foto ok no non serve a niente questa cosa non ti alza più l'abilità quindi rimettiamola a posto magari no va cos'è ah ok oddio mi sembrava un qualcosa appoggiato super aria lei sta lì mangiare te magari mi svuoti qua e mi fai il caffè i cani qui se la passano bene tutto sommato anche se sono un po' nello stretto pover bestie oh hai finito quindi chiama a tavola così mangiate entrambi oh piccola lei è in amore ora magari sai che faccio la porto con lei alla clinica vetrinaria e la faccio sterilizzare perché in effetti tanto non credo che le farò fare le cucciole poi eventualmente c'è il in the sims è possibile tornare indietro e ragazzi prima di andare a lezione e lui purtroppo me ne so scordato sta correndo letteralmente a lezione comunque lei invece prima di andare al lavoro ha deciso di venire all'apple store qui a Sanmaishuno molto bello molto carino con i cani perché volevo vedere se c'era un portatile e chiaramente non c'è un portatile ecco io che volevo comprarlo direttamente così però vabbè prendiamoci così il table cioè mi sembra brutto non è un un ammannaggia vabbè vai qui lei era venuta qua per comprare un portatile per per il nostro Geremaia così almeno quando insomma lei sarà al lavoro se lui vuole andare da lei lui potrà comunque studiare però in realtà non c'è però vede questa cosa e pensa che sarebbe adatto per lui perché comunque Geremaia ama leggere allora facciamo finta di pagarlo mettiamo i costi un tablet 500 simoleon non lo so abbiamo 18.010 quindi si fa money 17.510 e perfetto direi che allora con lei possiamo andare alla clinica veterinaria insieme così ve la mostro e facciamo anche un po' di di gioco dal vetrinario qui poi dovrò sistemarlo questo questo lotto perché non mi piace che non sia effettivamente un negozio devo assolutamente sistemare e ragazzi siamo arrivati fa una ramanzina sugli abbaile come al solito allora al momento siamo chiusi però prima ad aprire io le vorrei far fare la strelizzazione alle sue cani alle due canine sia a delta che a sanza perché mi sto scocciando di vederle ogni 3 minuti abbaiare in amore in calore basta quindi sterilizziamole e togliamo il problema e poi devo mettere qualche biscottino qua che almeno insomma ci facciamo un po' di soldini tanto lei è qui che opera delta se non erro ok delta è stata sterilizzata per la sua gioia poi chiamiamo qui sanza perché voglio sterilizzare anche sanza no 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 sbagliato 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 no ho fatto l'inversione lo voglio qua arriva qui geremaya vai a consolare la piccola delta che adesso ha il cono raccontale una storia vai a fare i giochi non mi pare il caso appena subito un'operazione povera cucciolina e lodala perché è stata brava cos'è quotidiani ok delta sei stata cucciola sei stata bravissima veramente brava lei sta sterilizzando sanza no lei è venuta in bagno oddio effettivamente le scappava inizia a sterilizzare sanza così almeno sì perfetto siediti e guardate fai una cosa a sto punto studi studia discutiamone vediamo cos'è la prima cosa che abbiamo due giorni sei minuti tra poco a questa cosa la lezione qua per cui e devi fare compiti in realtà di padronanza della mente quindi no vabbè lascia stare che tanto devi andare a lezione tra poco e lei è venuta a farsi un caffè va bene e no però se sì pigliati il caffè perché lo dobbiamo aprire e vieni qua sono tutte e due piccoline tristi vieni a lodare lei per piacere ok è arrivato un paziente quindi saluta il paziente da un po' Dean non sembra più quello di sempre penso ci possa essere qualcosa che non va potresti dargli un'occhiata ma certamente no c'è anche Mabel lei è un gatto che ha fatto il micio vabbè iniziamo a visitare Dean comunque ok ha già messo oh piccolo no c'è decisamente qualcosa che non va allora è abbastanza tranquillo tre eseminiamo la bocca e ascoltiamo il cuore ah bravissima lei si ha la la l'abilità di veterinario è veramente molto alta dagli un dolcetto e guariamo il nostro cucciolo ok bravissimo qui pulì asciuga non abbiamo il robottino dovrò acquistarlo viene a salutare il paziente no non ti metta a chiacchierare tesoro devi studiare ah una normale visita di controllo bene quindi ok non sta male iniziamo a visitare come si chiama cio cio ho letto bene no chi ciu che ciu non so come si legge va bene quindi facciamo l'esame misuriamo la temperatura vediamo come stai cucciolo ispezioni di pelle e pelo pelle sana temperatura normale ascoltiamo anche il cuore poi magari calma il paziente lo rassicuri anche se sta bene insomma gli diamo un'iniezione preventiva ah ecco che volevo fare però io volevo assolutamente mettere la qualità della fornitura elevata e il ricarico del prezzo però a questo punto ragazza aumenta un po' 150 ok bravissimo dai visto che è andato tutto bene ok vado avanti un po' da sola perché alla fine qui poi insomma la conosciamo tutti benissimo ormai la carriera del veterinario ragazzi abbiamo terminato la sessione Jeremiah laureato con una media di B meno purtroppo perché abbiamo preso una D in una materia peccato perché le altre due avevamo presa più a meno e B però vabbè comunque laureato è stato un lungo viaggio ma la cerimonia di laurea di Jeremiah all'università di Britechester è fissata per domani è ora di festeggiare e sì ragazzi quindi io direi che arriviamo direttamente a domani e festeggiamo questo importantissimo traguardo di Jeremiah che bello il mio primo sim con la laurea e ragazzi è mattina quindi è il giorno della festa di laurea di Jeremiah io non so però esattamente come funziona perché non ci sono mai stata però tu dovresti anche lavorare vado a lavorare al bar e torno e poi andiamo a festeggiare anche San Valentino ci sono un po' troppe venti in un solo giorno maledizione dai vai al lavoro lei la mandiamo a guardare il canale rosa guardi il canale rosa oh è tornato con 68 simoleone ragazzi non ti preoccupare che tra poco guadagnerai molto di più comunque qua vedo che non c'è nessun nessuna festa di laurea quindi spero mi auguro che venga da sola in automatico intanto facciamo abiti cambi abito indossa un altro vestito a caso guarda anche tu il canale rosa anche se vabbè non sei molto a te neanche piace ovviamente guarda il canale rosa però fai la tradizione lui adora dare dei fiori e andare a un appuntamento quindi magari potresti acquistare dei regali giardinaggio regaliamo una margherita semplice anche se oddio certo costa troppo poco dai andiamo su un tulipano perché non volevo la classica rosa cos'è pensa al membro della famiglia sì effettivamente dovremmo anche sta pensando a sua madre chiaramente nella mia fantasia lui andrà cioè alla festa di laurea ci sarà anche sua madre magari fai così vai anche tu a fare una passeggiata con delta cura dell'animale vai a fare una passeggiata breve oggi camminiamo ragazzi oggi camminiamo che lei è qui che sta ancora portando a spasso sanza ok siamo arrivati a casa qui c'è del sudicio vedo perché che si è rotto oh ragazzi no no santo cielo santissimissimo cielo oh mio dio no è anche il giorno di laurea di Greg spegni le fiamme tra l'altro c'è arrivata la cerimonia di laurea siamo invitati in unità familiare inizierà presto quindi ragazzi Greg mentre lei si spegne le fiamme io ah non ti stai spegnendo ok si si è spenta vatti a fare la doccia assolutamente mi sei andata a fuoco comunque vabbè niente ragazzi io vi saluto con questo giorno con questo episodio e noi ci vediamo la prossima volta con la festa di laurea di Jeremia se questo episodio comunque vi è piaciuto a parte la la parte molto calda finale mandatemi un like lasciatemi un commento e fatemelo sapere Janai ci sta chiamando la mamma ci chiama vabbè giustamente per la laurea quindi comunque vabbè dicevo lasciatemi un commento fermi questo è il fratello della nostra vicina il figlio del nostro vicino che è un po' bacchiato forse perché sono nati gemelli e lui non dorme chissà comunque vabbè niente dicevo io vi saluto lasciatemi un like e un commento se questo episodio vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio della vita di Willers cioè di lui di Jeremiah Zup 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 Grazie a tutti.